Assistenza, informazioni, mutuo aiuto, apre lo sportello Famiglia. Arriva così anche nell'area di Cittadella il progetto regionale Alleanze per la Famiglia. Sette i comuni che hanno costituito un tavolo per iniziative a sostegno delle famiglie. A Carmignano la prima tappa. Si chiama sportello.famiglia. Il servizio, gestito da una cooperativa, è gratuito e opera nel rispetto della riservatezza. È uno spazio di ascolto, consulenza e orientamento su educazione e formazione, sui servizi sociali a disposizione, sulla sanità, la scuola, la cultura e il tempo libero, servizi fiscali ed economici e consulenza legale.